Una vasta area di alta pressione continua ad interessare l'Europa centrale e l'Italia, garantendo condizioni di stabilità. Nessuna variazione è attesa per gran parte della prossima settimana. In Toscana, martedì 5 novembre, sereno poco nuvoloso per nubi alte e sottili, foschi e banchi di nebbia nelle pianure interne fino alle prime ore del mattino, venti deboli variabili o assenti, mari calmi, temperature stazionario in lieve calo, inversione termica nelle vallate. Anche sui territori provinciali di Lucca e Massa Carrara, cielo sereno localmente velato. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 6, massima 18 gradi. A Castelnuovo Garfagnana e Valle del Serchio, minima 4, massima 18. A Viareggio e sul litorale, minima 11, massima 18. A Massa Carrara e Lunigiana, minima 11, massima 18 gradi. Mercoledì, cielo poco nuvoloso, contemporanei addensamenti e banchi di nebbia in pianura.